Ciao ragazze, nuovo video giveaway per voi in collaborazione con l'azienda americana Kaysapp Cos'è Kaysapp? Allora, è un sito che ti permette di realizzare delle cover personalizzate Ha anche il sito inglese, UK e anche tedesco, se non sbaglio Ve li lascio comunque giù nell'info box per chi è interessata Grazie a un loro codice per blogger e youtuber ho avuto la possibilità di creare una cover personalizzata Questa azienda fa cover personalizzate per iPhone 5, 4, 4S e Samsung Galaxy S3 Con questo codice ho deciso di realizzare una cover personalizzata per voi E insomma fare un giveaway per voi L'ho creata io quindi spero che vi piace Comunque ve l'ho già postata su Facebook e Instagram quando mi è arrivata Ve la faccio vedere subito Io ho scelto il modello per iPhone 4 e 4S E' compatibile per tutti e due gli iPhone E insomma ho scelto questo modello qui perché è anche il più comune Vi faccio vedere come ho realizzato la cover Ho visto che tante ragazze cercavano una cover del genere Quindi ho deciso di realizzarla e dare la possibilità a una di voi di vincerla Anche perché su internet costa abbastanza devo dire Ed eccola qui Ed è come potete vedere la cover con la Naked 2 L'ho fatta io insomma l'ho realizzata io Ho scelto anche il colore bianca in plastica dura E c'ha la stampa con la Naked 2 E' molto molto bella devo dire Tra l'altro la stampa è fatta molto molto bene Tipo in rilievo Non so se si può vedere Comunque fanno davvero delle bellissime cover Vi lascio giù nell'info box il loro sito Che tra l'altro potete vedere anche tutti i vari tipi di cover che loro fanno Questa qui l'ho personalizzata io Eccomi L'ho personalizzata io e ho scelto insomma di farla insomma con la Naked 2 Però voi potete utilizzare qualsiasi tipo di cover Cioè di immagine E niente Cosa dovete fare per vincere questa cover? Vi faccio vedere il sito Non so se l'avete mai visto Ed è questo qui Caseup.com Lo trovate anche su Instagram E anche insomma vabbè Anche il loro sito Lo trovate anche su Instagram Con caseup Questi insomma sono i vari contatti loro Cosa dovete fare per vincere questa cover? Ovviamente dovete essere iscritte al mio canale Lasciare un massimo di 5 commenti sotto a questo video Solo e soltanto sotto a questo video Mettere questo video tra i preferiti E niente Le solite regole Dei giveaway Spero che vi piace La trovo molto carina e originale Sinceramente Ed è fatta davvero molto molto bene Mi piace un sacco anche a me Peccato che non ho l'iPhone Ma è molto molto bella E niente ragazze Io vi mando un forte bacio Spero che la cover vi piace E niente Ci vediamo prestissimo nel prossimo video Ciao ragazze